Sinistra Ecologia e Libertà di Vittoria scende in campo contro l'ex serriti e aderisce alla manifestazione promossa dalle organizzazioni di categorie, forze sindacali e mondo produttivo in programma per venerdì 24 maggio in Piazza del Popolo. SEL condivide pienamente le richieste avanzate dal tavolo tecnico che si sta occupando di organizzare la manifestazione e il circolo iperino non condivide la politica portata avanti da riscossione Sicilia perché sta vessando oltremodo i piccoli e medi imprenditori vittoriesi e siciliani SEL ha messo inoltre a disposizione del Comitato Promotore della manifestazione proprie risorse umane per fornire un contributo a quello che ritengono possa rappresentare un momento importante e decisivo per il rilancio dell'economia cittadina siciliana e nazionale. Per questo motivo è stata coinvolta anche la deputazione nazionale di SEL che sarà rappresentata da alcuni deputati proprio giorno 24 maggio in Piazza del Popolo. Diverse le richieste avanzate dai manifestanti in occasione dell'evento del 24 maggio la sospensione immediata delle norme che reggono gli importi delle sanzioni calcolate nella misura del 30% la sospensione delle norme che reggono i regimi sanzionatori e che disciplinano l'entità la decorrenza degli interessi, la modifica dell'entità degli interessi per la mancata iscrizione al ruolo l'applicazione di tassi più bassi, la sospensione delle asse giudiziarie e infine una rivisitazione complessiva del sistema di riscossione Sicilia.